Questo ha una tecnologia Vittor Analog Il livello a risoluzione che ti dicevo prima è a 5 parti, multidimbrico Con tutti i suoni in C-core che sentitevi prima sul Phantom E con in più i model bank che ci sono già dentro Quindi lo vedi piccolino ma in realtà dentro c'è tanta roba Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!